Beh, bravo! Tu hai scoperto le tue carte e adesso scopro le mie. Scoprite, donna Francesca, scoprite! Ecco, a parte che a Caterina fai schifo, io non ti butto mica via. Puoi essere un'ottima riserva. E poi, come dice il proverbio? In temporachina... Omnia strunzanata. Ecco, bravo! Vai a nuotare, vai! Ma insomma, signor direttore, io non capisco tutte queste difficoltà a concederci un fido di qualche milione. Mio fratello in questa banca ha depositato per gli arti. E di cui noi siamo gli eredi? Solo nel caso che non nasca l'erete naturale leggetto. Ma no, ma quando mai? Ma che sta dicendo? Ma mio fratello non poteva avere eredi. Ma non le basta la mia parola d'onore? Sì, sì, la parola d'onore è valida, però per il passato, ma per il presente. Il figlio per noi basta che sia concepito e incedemne le leggi. Ma allora lei se ne frega dalla mia parola d'onore? È certo, non solo. Ma lei comparita...